...ci troviamo sul PA Track, Process Automation Track di Siemens, che permette di vedere tutta l'offerta di Siemens in ambito di Process Automation. In questa wall, in questa parete vediamo tutta la strumentazione di processo, di quelli che sono gli elementi principali da misurare, quali la misura di livello, di temperatura, di portata, di pressione, e il portafoglio Siemens comprende tutte queste tecnologie e questi prodotti per coprire le esigenze dei mercati specifici industriali, quindi in ambito oil in gas, in ambito chimico, in ambito farmaceutico, alimentare, e via dicendo. Abbiamo la misura di portata Vortex, elettromagnetiche, massiche con effetto Coriolis, continuando per la misura di livello Radar, Radar a 25 GHz, Radar a 78 GHz, una serie di misuratori di livello puntuali, misuratori di livello ultrasonori capacitivi, misure di portata ultrasonore, per concludere in questa wall con il posizionatore PS100 per il controllo delle valvole elettro-pneumatiche. PS100 per il controllo delle valvole 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 PS100 per il controllo delle valvole 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 val